Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un video in cui continuiamo a raccontare i diari di Rodolfo Graziani. I diari dal 1940 al 1941 tenuti da colui che io son solito definire Condottiero di Cartapesta e Somaro di Affile, perché oggettivamente è universalmente considerato non solo da me uno dei peggiori capi militari non solo della seconda guerra mondiale ma della storia. Mi sono sbrigato un dito con una martellata, non ci fate caso, 5 punti. Va bene signori, allora comincia il mese di settembre, si avvicina l'avanzata su Sidi El Barrani, si avvicina il momento di fare sul serio dopo circa due mesi di traccheggiamenti, di tentennamenti, di continue riunioni, di continui aggiornamenti, di piani, di incontri tra teste gallonate. Insomma, Graziani quantomeno un po' si è dato da fare, dovendosi occupare non solo della questione militare, non solo del comando delle forze armate in Africa settentrionale, ma anche della carica di capo di stato maggiore dell'esercito e della carica di governatore civile della Libia, Graziani si destreggia come può e, come dire, perde tempo, aspetta, spera che gli mandino rinforzi, partecipa a inaugurazioni, va al cinema, va anche al mare, ma insomma, signori, un po' di ruattite concediamola a quest'uomo, eccolo, va bene, va bene, va bene. Siamo arrivati al primo settembre e siamo a Cirene. Alle due di notte convoca presso, diciamo, primo settembre, Graziani, è il primo settembre, Graziani è a Cirene. Convoco presso di me il generale intendente che mi annunzia il suo arrivo per le 11.30. Il generale Tellera, rientrato da Tobruk, mi riferisce su alcune questioni. Arriva il generale Giordano e con ambedue tratto. Tenete presente, tenetevi forte, signori, perché qui si gettano le basi per la catastrofe dell'operazione Compass. Tenetevi pronti. Arriva il generale Giordano e con ambedue, quindi anche con Tellera, tratto la questione della riduzione autocarri al gruppo Maletti, confermando l'ordine che per ora egli ne versi 50 per la 23 marzo, una delle divisioni di camice nere. Ma altresì la necessità di lasciare ad esso una larghissima autonomia, perché sarà quello che dovrà risolvere la manovra sulla destra e ne ha quindi bisogno. Cioè, allora, allora, il raggruppamento Maletti era una parte fondamentale del nostro schieramento offensivo. È nel deserto e questo Graziani lo sapeva benissimo. La mobilità è tutto. Che cosa fa Graziani? Che cosa fa Graziani? Riduce la dotazione di autocarri al raggruppamento Maletti e fa sì che il raggruppamento Maletti passi 50 preziosissimi e indispensabili camion alla divisione camice nere 28 marzo. E questo mentre i bevitori di tè erano completamente meccanizzati. Signori scusate, scusate, scusate. Il generale Giordano mi informa della collisione dei due piroscafi a Tobruk. Fanno parte di quelli che devono portare materiale. Gli metto a disposizione il mio S75 che è a Bengasi, per dove parte immediatamente per proseguire per Tripoli. In carico il generale Tellera di liquidare la faccenda Maletti e Tellera a quanto pare non era assolutamente entusiasta e richiamare il tenente colonnello Tonini, comandante dei paracadutisti, il cui atteggiamento lascia molto a desiderare per disciplina e presunzione. Notate bene una cosa però, Tonini era un paracadutista, era il comandante dei raggruppamenti paracadutisti libici. Le truppe speciali sono composte da gente tosta, i paracadutisti sono notoriamente delle teste calde e l'atteggiamento di un paracadutista come il tenente colonnello Tonini oggettivamente urtava un vanesio tronfio e vanaglorioso buffone come Graziani. Perché diciamoci la verità, con tutti i difetti che possono avere i parà di sicuro non hanno quello di non mandarla a dire. Giunge notizia, conferma generale Giordano a Tripoli ore 15 e 30. Indico per domattina una riunione, la solita riunione, alla quale prenderanno parte l'eccellenza Berti, Gariboldi, Tellera, il generale Maletti, Miele, il colonnello Sorrentino. Almeno tre, cioè praticamente fa una riunione al giorno con questa gente qua. Ma questi qui quando cazzo badano alle truppe? Sempre riunioni, sempre parlare, sempre concionare e questionare. Ma nessuno che pensa a quando si dovrà agire. 2 settembre rientra il maggiore scivicco dei reali carabinieri da Roma, dove ha consegnato allo Stamage, stato maggiore generale, quindi a Badoglio, il mio plico numero 011OP. Tengo la riunione indetta ieri dalle 12 alle 14 con i partecipanti al completo. Do comunicazione del foglio 2180 del Capo di Stato Maggiore Generale, sempre Badoglio. Quindi si esaminano le possibilità operative. 1. In relazione alla data indicata nel suddetto foglio, qualora i mezzi inviati non fossero ancora a pied'opera? 2. In relazione ad eventuali ritardi sulla data indicata e con i mezzi a pied'opera. Ordino poi di compilare una memoria da inviare a Roma. ricevo il generale Cerica, scusate, per i provvedimenti polizia e misure da adottare contro lo spionaggio. Tra l'altro, scusate una cosa, credo di avere sbagliato nello scorso video quando raccontavo del bombardamento di Graziani. I messaggi italiani non erano decifrati da ultra, però il traffico radio di Graziani veniva intercettato. Gli inglesi non sono stupidi, qualche informatore sicuramente ce l'avevano e il traffico radio proveniente dalla zona del comando di Graziani aveva indirizzato la formazione di bombardieri sulla testa del tronfio tacchino gallonato. Va bene. Quindi ricevo il generale Tellera per cose varie che dovrà svolgere. La sera conferisco col maggiore scivicco sulla missione romana. Insomma, sempre riunioni, sempre riunioni, sempre riunioni, quasi sempre con le stesse persone. Si chiude così quest'altra giornata di travaglio. Mi giunge notizia della morte di Yanef Kerbive a Tripoli per malattia. Telefono al vice governatore e a bocca per rappresentarmi ai funerali e per le condoglianze alla famiglia. Va bene. 3 settembre. Questa mattina è partito per Bengasi il maggiore dei reali carabinieri civicco. Sto povero civicco gira come una trottola. Va bene. Al quale ieri ho consegnato copia del rapporto numero 01-2078-50 del 29 agosto con allegata carta dimostrativa diretto all'eccellenza il capo di stato maggiore generale Badaglio! Nel quale sono messe in evidenza le risultanze della riunione di ieri e il piano operativo in corso di attuazione. Riunioni, 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 sono tante riunioni per tanti cosi... Scusate, va bene. Ho messo a sua disposizione il mio S75 per recarsi a Tripoli da dove dovrà proseguire da Roma dovrà proseguire per Roma o con lo Zappata l'idrovolante Kant che era in servizio a Bengasi o con l'S75 a scelta del tenente colonnello Mencarelli con rotta di puntini, puntini, puntini Alle 10.30 il maggiore civicco era già a Tripoli Sicurezza Contemporaneamente faccio partire il generale Miele per Tobruk l'attore per il generale Berti del rapporto numero puntini, puntini, puntini inviato a Roma e della mia lettera numero puntini, puntini, puntini Qui probabilmente Graziani non si ricorda i numeri di protocollo di questi documenti che ha spedito e che ha inviato tramite i suoi corrieri quindi lascia lo spazio vuoto con l'idea magari di aggiungerlo in un secondo momento perché ricordiamoci i diari sono sempre la base per scrivere le memorie Graziani si sentiva già oggettivamente la vittoria in tasca si può dire e scriveva il suo diario non solo per avere un promemoria per le cose fatte e da fare ma anche e soprattutto a futura memoria per le sue memorie per un libro di memorie che gli avrebbe che già lui si pregustava di scrivere lo scipione da operetta va bene allora scusate ecco è rientrato il generale Giordano da Tripoli e mi dà notizia circa la situazione dei due piroscafi collisionati e di provvedimenti presi per far scaricare i carichi relativi con afflusso a Bengasi via terra e via mare conferisco a lungo con lui e con il generale Tellera in carico il generale Giordano di ordinare al generale Maletti di rientrare da El-Foryac e quindi a Martuba col suo raggruppamento motorizzato anziché dislocarsi a Um-El-Resem e Maletti da lì a poco dovrà perdere una buona parte della sua mobilità per versare 50 preziosi camion alla 28 alle camicie nere vabbè scusate tratto a fondo con il generale Tellera il problema della difesa antiaerea di Cirene e problemi relativi nel pomeriggio scendo ad Apollonia dove visito l'ospedale militare alla sera ricevo la lettera numero puntini puntini del giorno puntini puntini del capo di stato maggiore generale è giunto a Cirene il generale Babini comandante carrista che vedrò domattina ancora riunioni ancora riunioni ancora riunioni va bene scrivo a casa una raccomandata scrivo anche a Wanda la moglie la figlia scusate 4 settembre giunge notizia da Tripoli che il tenente colonnello Mencarelli con il maggiore Scivicco è partito alle 7.55 con l'S75 per Roma telegrafo a casa per auguri ricevo il generale Babini che mi mette al corrente sul problema dei carri d'assalto e provvedimenti attuati ricevo il colonnello Sorrentino che è in carico di recarsi domani a Bardia in ricognizione colloquio col generale Miele reduce da Tobruk che mi riferisce su una missione compiuta idem col generale Lerici per la questione della commissione d'armistizio fatto venire qui da Gabès espressamente colloquio col colonnello Camerra per l'organizzazione della difesa contraerea di Cirene Rodolfo si guarda guarda in alto idem colonnello Granata per studio trasferimento uffici comando nelle grotte e ricovero per la mia sala idem colonnello Leo comandante del Sara Tripolitano venuto da HON su organizzazione Auenat idem col capo di stato maggiore sempre al tema sistemazione ufficio comando delle grotte la famosa tomba romana la famosa tomba di epoca tolemaica che Graziani utilizzava come sala comando che Graziani utilizzava come rifugio per proteggersi e insomma signori le bombe sono brutte quando ti cascano in testa meglio avere qualche metro di roccia sopra la testa a distanza di sicurezza dal fronte e dalla costa ecco poi dicono che sono cattivo porca miseria 5 settembre nella notte giunge comunicazione dal maggiore scivicco di avere consegnato il plico numero puntini 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 allo stamage giuncono anche i due telegrammi di badoglio numero non ci sono i numeri perché ci sono solo i puntini e il foglio Berti numero anche questo solo con i puntini alle 9.30 il maggiore Zecca mi consegna il foglio di intercettazioni dalle 7.15 alle 8.35 nel quale si accenna ad un attacco in corso da parte del nemico si ignora la direzione una delle tante incursioni lanciate dagli inglesi sul nostro deserto mentre noi stiamo a grattarci e fare riunioni e aspettare mezzi che non arriveranno mai perché come ben sapete qualcosa bolle in pentola a Roma e soprattutto Roatta sta cercando di fare le scarpe al suo capo al suo superiore perché Roatta vuol diventare capo di stato maggiore dell'esercito e ci riuscirà pure ok allora parlo subito con sua eccellenza Porro per l'intervento della aviazione come sempre la collaborazione interforze la cooperazione interarma la cooperazione tra aviazione marina ed esercito è scarsa per non dire inesistente indico l'eccellenza Tellera perché si è subito informata l'armata madonna santa che razza di giri alle 9.50 parlo con il colonnello Giuffrida Aderna capo di stato maggiore di Maletti ordinandogli di mettere subito in marcia il reggimento motorizzato per Buacheni alle 10 parlo con sua eccellenza Berti al quale do comunicazioni di quanto sopra gli comunico l'ordine di movimento dato al raggruppamento Maletti è già al corrente delle intercettazioni ed ha disposto che un apparecchio riconosca il terreno tra Capuzzo e Gabr Saleh ritiene più attendibile direzione attacco sulla ridotta Capuzzo ore 10.15 informo sua eccellenza Tellera del mio colloquio con l'eccellenza Berti informa colloqui 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 concioni discussioni rapporti telefonate sempre parlare agire bu preparare forse ma che vi devo dire arriva da Derna il generale Giordano che invio subito all'eccellenza Tellera per il rapporto in redazione per Roma il generale Maletti è in via d'arrivo da Derna a Cirene partito prima della mia comunicazione al colonnello Giuffrida è arrivato ritorna subito a Derna nella mattina si chiarisce l'enigma delle intercettazioni inglesi si deve trattare di una manovra della divisione motorizzata manovra incursione rapide incursioni mordi e fuggi che servivano anche come ricognizione e per la conoscenza del terreno operate a tutta velocità perché nel deserto movimento e velocità sono assolutamente indispensabili sospendo in conseguenza l'ordine di trasferamento del raggruppamento Maletti riunione presso di me del capo di stato maggiore generale Giordano del generale Miele non approvo la forma della risposta che faccio modificare alle 17 parto per Bengasi 6 settembre è un venerdì questa mattina è partito in vola per Roma il generale Miele l'attore del plico di risposta al telegramma Badoglio numero 23081 Graziani non si fida molto evidentemente delle comunicazioni radiotelegrafiche e manda plichi di persona ok ha tassativo ordine di parlare esclusivamente col capo di stato maggiore generale e di dare a voce tutti i chiarimenti che questi chiedesse di non prestarsi a raccogliere voci di pettegolezzo chiacchiere eccetera con chiunque altro basterà per noi che insista nel non lesinare i mezzi laddove maggiormente occorre che siano dati il nostro principale fronte è quello africano ma non arrivano i mezzi perché a parte le difficoltà logistiche a parte le difficoltà del traffico navale a parte la scarsità e la penuria di mezzi cronica e mutilante e invalidante per il nostro esercito c'è anche da dire che altre cose bollono in pentola è uno dei cuochi non solo i Mussolini ma è pure Roatta il vice di Graziani ma ne parleremo in seguito colloquio col generale da ponte su situazione porto ore 11 giunge in porto il piroscafo grippi con automezzi idem col maggiore melia comandante dei regi carabinieri su situazione politica decido di far partire il capitano Zingoni in aereo per far recapitare in segreto un plico al duce ma a seguito del telegramma lettera del maresciallo Badoglio numero 2319 portato mia mano dal maggiore scivicco rientrato da Roma decido di soprassedere il capo di stato allora preparatevi perché Graziani tira fuori gli artigli e soprattutto tira fuori rabbia rancore astio e veleno nei confronti del suo arcinemico Badoglio il capo di stato maggiore generale è in questo foglio più bestiale e ambiguo del consueto ripeto il capo di stato maggiore generale quindi Badoglio è in questo foglio più bestiale e ambiguo del consueto non sapendo resistere alle pressioni del duce e sapendo di non avere inviati qui i mezzi necessari spinge me ad attaccare per trovare un responsabile espiatorio questa volta ha sbagliato i soliti dispettucci dell'asilo Mariuccia i soliti dispettini i soliti dispettini che si fanno i nostri generalissimi mamma mia cioè scusate se ve lo dico Graziani sarà un livoroso rancoroso paranoico vile e iper sospettoso ma come fai a non avere sospetti nei confronti di Badoglio va bene 7 settembre ultimo giorno segnato sulla agenda numero sulla agenda numero 2 ok 7 settembre sabato notte tragica andiamo a letto io e Pacifico alle 3 meditando sulla vigliaccheria dello stato maggiore generale ho fatto venire il mio S75 da Apollonia a Bengasi per essere pronto a partire per Roma alla prima necessità e qui viene fuori il problema grave governatore generale della Libia comandante delle forze armate dell'Africa settentrionale ma al contempo capo di stato maggiore dell'esercito con importanti cose da fare a Roma e nel momento di preparare tutto cosa fa Graziani si prepara l'aereo per andare a Roma e da lì andare a fare a Cagnara con Badoglio va bene è quello che farò in estrema razio intanto preferisco rispondere al capo di stato maggiore generale Badoglio con il foglio numero tre sono giunto da Bardia sono giunti scusate da Bardia il colonnello Sorrentino ed il tenente colonnello Petroni reduce dalla ricognizione l'incarico di cifrare il telegramma riunioni 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 va bene è un tormento inaudito voler attaccare nelle condizioni di avere una disfatta ripeto è un tormento inaudito voler attaccare nelle condizioni di avere una disfatta a Roma sono o traditori o incoscienti o tutte e due cercano forse in me chi debba pagare per tutti non proprio Rodolfo ma ci sei abbastanza vicino alle 15 e 30 giunge il telegramma del maresciallo Badoglio che ordina di attaccare per il giorno 9 hanno ascoltato Miele? evidentemente no è così compiuto quello che domani potrebbe essere registrato come un delitto storico alla esecuzione del quale io mi sono opposto fino a che ho potuto con tutte le mie forze è contro la logica contro la prudenza più elementare Graziani sa che non possiamo attaccare l'Egitto Graziani sa che siamo un'armata di cartone Graziani sa che la nostra potenza militare è farlocca Graziani sa che le nostre tuppie appiedate nel deserto non sono in grado di fare granché ok? solo può essere giustificato da una occulta ragione politica e iddio faccia che così sia e che tutto vada bene giusto l'onnipotente telefono subito all'Eccellenza Tellera perché indica una riunione a Cirene per dove partirò tra un paio d'ore interverranno Sua Eccellenza Berti Sua Eccellenza Porro il generale Giordano il generale Maletti in questa riunione ho perso il conto in questo mese quante riunioni ha fatto Graziani quante quante è sempre con gli stessi è sempre lì a dover questionare a dover assemblearsi a dover fare questi simposi tutti assieme per stabilire che non siamo in grado di attaccare vabbè 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 interverranno Sua Eccellenza Berti Sua Eccellenza Porro il generale Giordano il generale Maletti in questa riunione inverto gli ordini per la manovra Consegno al commendator Bocca mio capogabinetto tutti i documenti più importanti e questo stesso notes l'agenda numero due dove sono segnate le tappe dolorose di questo travaglio impostomi contro la mia volontà Adolfo non farla vittima perché tu l'hai voluto accettare questo incarico perché tu questo incarico lo hai preso te lo hanno dato e te lo sei preso vuoi avere un minimo di dignità e dire forse è meglio un comandante militare diverso forse proviamo a chiamare me seduce che poi tra l'altro Mussolini ci aveva anche pensato ma no no Mussolini doveva mandare in Africa settentrionale il più fascista dei suoi generali il simbolo del regime per antonomasia quindi Graziani deve andare ad assumersi un compito molto al di sopra delle sue possibilità e del tempo materiale che ha perché la guerra viene prima la guerra viene prima la guerra viene prima la guerra viene prima e dopo essere venuta prima per 4 5 6 volte dopo viene il resto che deve prendersi quello che avanza ma questo qui nella testa di qualcuno non è entrato di quanto di male potrà avvenire in faccia a Dio e dai miei soldati io non sono responsabile Rodolfo Graziani Bengasi 7 settembre 1940 ore 16 e 25 sentite un po' già Graziani mette le mani avanti ripeto di quanto di male potrà avvenire in faccia a Dio e dai miei soldati io non sono responsabile caro Rodolfo caro Rodolfesso nazionale oh sommo esponente della sublime arte del capire tutto con dieci anni di ritardo caro Graziani caro Graziani così proprio non va cioè tu comandante delle forze armate in Africa settentrionale governatore generale della Libia capo di stato maggiore dell'esercito dici di non essere responsabile per un'eventuale sconfitta per la prossima offensiva italiana che deve superare il confine egiziano la fuga dalle responsabilità tipiche delle alte sfere del regime noi abbiamo obbedito agli ordini noi abbiamo fatto il nostro dovere noi non sappiamo nulla come vi permettete di giudicarci eccetera dire che è sconsolante è poco signori è sconsolante una condotta della guerra che definire criminale è poco io avanzerò io attaccherò ma se vengo sconfitto male la colpa non è mia e togliamo automezza e raggruppamento maletti per darle per darle alle camicie nere cioè signori un pianto un pianto un pianto poco da dire poco da fare e dopo questa valle di lacrime dopo queste amare lacrime dopo questa sconsolante dopo l'ennesima sconsolante sequela di riunioni sequela di recriminazioni sequela di 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 lagnanze e di sospetti di livorosi rancorosi e paranoici sospetti non del tutto campati in aria questo è vero ma Graziani in questo momento sta rivolgendo i suoi sospetti verso la persona sbagliata verso Badoglio mentre quello che sta cercando di fargli le scarpe è Roatta che fornirà che non fornirà al duce e allo stato maggiore certi documenti spediti da Graziani e che si guarderà bene Roatta dall'avvisare Graziani suo superiore militare di quello che sta bollendo in pentola per la Grecia e del fatto che molto materiale che Graziani chiede non gli verrà inviato perché uno non c'erano navi due i porti non potevano ricevere più di tanto tre scusa tre abbiamo il dito chiedendo a me e insomma e ultima cosa porca miseria dove veramente volevamo andare a sbattere la testa io vi giuro che quando ho letto questo questo ultimo giorno di settembre l'ultimo giorno segnato sulla cosiddetta agenda numero due vi giuro signori mi è venuta voglia di prendere il muro a testate con la mia testa e usare Graziani come casco antiurto ma dove siamo stati signori miei che vi devo dire deprimente 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 e senza vergogna tutto qua insomma signori come sempre commentate qua sotto fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere qual è la vostra opinione commentate commentate qua sotto qua 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 sotto qua sotto commentate e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao ciao